Era il 1915 quando anche l'Italia fece il suo ingresso ufficiale nella Grande Guerra, quella prima guerra mondiale che costò la vita a 9 milioni di soldati e a 7 milioni di civili, un sacrificio di un popolo e di un'internazione che l'esercito italiano non intende dimenticare. Con questo spirito è nata l'iniziativa, l'esercito marciava, la manifestazione che si svolgerà dall'11 al 24 maggio e che percorrerà tutta l'Italia. Sarà il cuore di Lecce, Piazza Santo Ronzo, a dare il via ad una staffetta di soldati che partendo da 5 località diverse e correndo ininterrottamente attraverserà vie, borghi, paesi sacrari, città dopo città, fino a raggiungere, la sera del 24 maggio, Piazza Unità d'Italia a Trieste. Quale migliore occasione per dare a Lecce il suo giusto lustro, diciamo così? Peraltro in una cornice stupenda, non soltanto come centralità, Piazza Santo Ronzo, ma anche proprio come culto di storia fondamentale. Quindi partiremo da Lecce e uniremo idealmente Lecce con Trieste, e cioè la partenza e l'arrivo delle nostre speranze e delle nostre ambizioni. L'evento è stato presentato a Bari dal generale di brigata Natalino Madedu, comandante militare regionale, dal maggiore Cosimo Leuzzi, portavoce della scuola di cavalleria, e dal capitano Giuseppe Colasanto, portavoce della brigata meccanizzata Pinerolo. Dunque, appuntamento per il 17 maggio a Lecce per unirsi all'esercito nel ricordo di chi ha sacrificato la vita per la patria.